Amici ben trovati alla terza puntata di 015 Talk Show. Innanzitutto vi ringraziamo per l'affetto che avete dimostrato nelle prime due puntate. Vi ricordo fin da subito tutti i mezzi per rimanere in contatto con noi. Il sito è www.015tv.it dove potete rivedere le puntate precedenti cliccando su archivio dei nostri video e naturalmente anche questa puntata dopo che è andata in onda nelle emittenti che ci ospitano come state vedendo in questo momento. Il sito per comunicare con noi appunto quello. La mail è redazionechiocciola015tv.it e poi abbiamo anche la pagina facebook sulla quale vi invito a mettere mi piace che è 015 FB. Ma adesso veniamo agli ospiti di questa nostra terza puntata che sono Giulia Lamagna, medaglia di bronzo agli europei di Pugilato accompagnata dal maestro Roberto Scaglione che non è solo maestro di Giulia ma anche tecnico federale e responsabile della selezione elite di Pugilato del Piemonte. Il sindaco di Zimone Pier Giorgio Givonetti è accompagnato anche da Antonino Rosa e con loro parleremo di vino, di erbaluce e delle iniziative della serra e anche naturalmente di agricoltura. Allora partiamo con Roberto. Roberto benvenuto a 015. Noi abbiamo la fortuna di seguire la box ormai da tanti anni per la precisione da 12 anni ovvero dal numero di edizioni del box setto le stelle che ci sarà sabato prossimo. Esatto esatto si sono 12 edizioni la prima edizione è stata fatta se ben ricordi non al piazzo ma è stata fatta a viverone e eravamo proprio ancora diciamo agli albori proprio all'inizio di questa di questa avventura e adesso andremo andremo in scena al piazzo come ormai appunto da 11 anni a questa parte la box è conosciuta a biella grazie a box 8 stelle devo dire perché tutti quando magari dico che si fa box eccetera al piazzo si fa la box quindi sicuramente è una bellissima vetrina un bellissimo contesto anche le persone che invitiamo quindi gli ospiti che vengono a boxare i maestri sono tutti molto felici nel senso piace molto questo questo nostro piccolo borgo storico che noi magari non lo valutiamo forse neanche più di tanto comunque comunque sì avremo una decina di match come al solito combatteranno parecchi i nostri atleti di casa e sarà una bella una bella serata all'insegna dello sport e del divertimento e dell'allegria. Senti Roberto la box sembra un po' tornata di moda cioè ha vissuto degli anni un po' bui in cui era ritenuto uno sport insomma per quelli che vanno in strada a tirar cazzotti parliamoci chiaro e poi dopo complice anche la cinematografia qualche reality nei quali i pugili insomma si sono fatti notare e anche come dire una voglia e un avvicinamento di altre realtà tipo i bambini le donne a quello sport e anche la box che è riuscita a convertirsi in delle discipline non di contatto è corretto? È vero è vero allora la box negli ultimi secondo me 4-5 anni ma forse anche qualche anno in più ha veramente subito un grosso incremento lo dimostrano le iscrizioni lo dimostrano le manifestazioni che vengono effettuate io dico a livello italiano e oltre che anche a livello nostro perché comunque ne stiamo veramente facendo tante forse troppe come dico ogni tanto è riuscita ad avvicinarsi un po' a tutti perché con questo discorso dell'avvicinarsi ai bimbi innanzitutto i genitori vengono a vedere a cos'è la box e la box non è solamente cazzotti o violenza assolutamente ma è grossa disciplina educazione e per i bimbi e anche per gli adulti è comunque un metodo per formarsi sia il carattere e sia comunque anche il fisico perché comunque l'allenamento è molto dispendioso a livello di calorie quindi di comunque consumo energetico eccetera e si è avvicinata anche grazie a tante donne noi abbiamo una presenza importante perché Giulia è stata la prima già più di tre anni fa adesso l'hanno seguita altre due ragazze che combatteranno le vedremo tutti e due al piazzo sabato prossimo e anche come attività amatoriale c'è questa light box che comunque per magari un po' i più vecchi non la vedono proprio come box perché comunque ha un contratto leggero però avvicina tantissime persone diciamo sopra i 35-40 anni che comunque non possono più boxare a livello tra parentesi serio quindi con il KO chiamiamolo ma possono divertirsi possono imparare comunque una disciplina possono salire su un ring che per tanti è un obiettivo quando mi arrivano magari della gente di palestra mi piacerebbe salire sul ring ma ormai è troppo tardi invece no anche a 40 50 60 anni anche 70 per assurdo si può salire sul ring perché ci sono vengono fatte tre riprese da un minuto viene fatta una scherma pugilistica senza contatto ed è comunque carino una cosa rivalutata mentre parlavi sono passate le immagini dei bambini che tu hai nella tua palestra a Ponderano in Volbuosi presso la fitness club sono piccoli beh i bambini noi li abbiamo presi come da la federazione le indicazioni della federazione le abbiamo già dai 5 anni dai 5 agli 11 anni anche 12 fanno l'attività giovanile quindi vengono svolti dei criterium i criterium servono per praticamente indirizzare proprio i bimbi al pugilato ma non è senza contatto quindi c'è il salto della funicella c'è magari il tirare al sacco ci sono dei percorsi propedeutici proprio per gli spostamenti dei bimbi quindi è tutto un lavoro proprio propedeutico per poi dopo 3 4 5 anni oppure anche su un anno cominciare a salire sul ring comunque sì ne abbiamo tanti e Giulia insieme ad Alessio insieme a Cecilia mi danno una grossa mano perché tutto da solo né posso né voglio farlo perché è giusto che tutti collaborino quindi loro ci danno una grossa mano a dare la loro formazione ai bimbi e invece parlando poi passiamo a così arriviamo agli agonisti a quelli bravi arriviamo anche a Giulia e tu sei selezionatore dell'Elite Piemonte Valle d'Aosta e sostanzialmente la nazionale della regione sì la squadra Elite come l'abbiamo chiamata Team Elite è nata un paio di anni fa grazie alla volontà sicuramente del nostro presidente del comitato Gianni Di Leo è nata questa sorta di nazionale piemontese e sta dando veramente dei bellissimi risultati giusto per agganciarsi alle donne da quest'anno è effettivo anche l'utilizzo diciamo delle donne in queste trasferte che faremo infatti il 15 di luglio quindi fra due settimane andremo giù nelle marche e faremo un interregionale quindi porteremo sette pugili nelle marche e il 22 ottobre verranno loro su quindi avremo questo scambio se ricordi anche a maggio, aprile, no a maggio deve essere stato è venuta sulla Calabria e se tutto va bene a fine luglio andremo anche noi a farci anche due giorni di mare in Calabria quindi fare questi scambi è una bellissima cosa perché i ragazzi combattono molto di più questi ragazzi che sono già quotati perché comunque hanno tutti almeno dei 30, 40, 50, 80 match quindi combattono di più e non è facile farli combattere quindi arrivano ai campionati italiani di fine anno più preparati e ti dico che l'anno scorso vuoi un po' per questo, vuoi per la qualità abbiamo ottenuto il miglior risultato a livello piemontese che avevamo ottenuto da forse 15 o 20 anni quindi abbiamo ottenuto delle medaglie d'oro, medaglie d'argento quasi inaspettate, tutta gente che ha combattuto con la squadra elite Senti, quando io facevo atletica si cercava di andare a fare dei meeting per incontrare delle persone con le quali tu non correvi contro abitualmente o saltavi contro abitualmente perché altrimenti cioè potevi fare la classifica a tavolino vale la stessa cosa? No, non è proprio la stessa cosa questo diciamo che sotto certi aspetti noi lo facciamo con le sedute dei collegiali i collegiali e i guanti che andiamo a fare nelle varie palestre in giro hanno un po' questo significato quindi ci si reaggruppa tutti i pugili che possono per un sabato, una domenica e si fanno i guanti, i famosi guanti che vorrebbe dire uno sparing quindi un combattimento tra i pugili dello stesso livello, della stessa categoria e lì si cresce perché comunque tutti i confronti con uno che non avevi mai fatto sia a livello di peso che a livello di qualità e questi collegiali servono proprio a questo per magari fare dei guanti, combattere con una persona che probabilmente non avresti mai fatto quindi questo è lo scambio che ci può essere come allenamento Tra le punte di diamante che hai nella tua palestra oltre a Giulia Lamagna, chi dobbiamo ricordarci? Giulia Lamagna vuoi un po' perché è stata ragazzina è sempre seguito, in palestra è già arrivata Giulia quando era piccola piccola poi è ricominciato quando si è fatta un po' più grande quindi tre anni fa Giulia aveva 15 anni e ha cominciato a combattere e di altre persone abbiamo parecchi agonisti quest'anno veramente abbiamo una quindicina di agonisti abbiamo il rientro di Rudy Cappai che è comunque un bel pugile, è giovane anche lui è di Ivrea, di Verone ed è veramente molto tecnico, giovane quindi ci darà secondo me delle belle soddisfazioni abbiamo, adesso non voglio non dire qualcuno che poi si offende diciamo che comunque abbiamo una bella rosa abbiamo l'Alessio Verniano che è comunque un ragazzo di 15 anni ha già 27 match quindi dà delle belle chance per il futuro e dopodiché abbiamo altri ragazzini quindi sono tutti bravi ognuno ha delle sue caratteristiche particolari però cerchiamo di dare a tutti il meglio Giulia veniamo a te ma come mai non hai indossato le scarpette da ballo e il tutù come magari insomma della nostra idea fanno le giovani bambine ti sei messo i guantoni e ti sei avvicinato al pugilato io in realtà non volevo fare nessuno sport però guardando mio zio che comunque si allenava a casa perché faceva pugilato con Roberto mi sono un po' appassionata quando lui è andato via per lavoro sono entrata in palestra e da lì non sono più uscita tu hai vinto la medaglia di bronzo agli europei lo scorso anno adesso invece per quest'anno cosa bolli in pentola? per ora un obiettivo vicino è il guanto d'oro che si terrà a luglio a Milano e dovrò cercare di prendere qualche medaglia per poi arrivare magari agli europei del prossimo agosto il sogno nel cassetto per la carriera pugilistica di Giulia da Giulia qual è? non si dice però si può immaginare sono le olimpiadi lo dico io va bene allora adesso diamo la linea alla pubblicità la linea all'emittente e poi dopo rientriamo con 015 talk show e parliamo di Erbaluce, di Zimone della Serra, di Viverone ovvero da dove è partita l'avventura di box sotto le stelle che ci ha raccontato Roberto con l'aiuto di Giulia a dopo ben rientrati a 015 talk show allora dopo aver parlato con Roberto Scaglione maestro di noblarte, di boxe e con Giulia Lamagna medaglie di bronzo giovanile agli europei adesso cambiamo decisamente argomento con il sindaco di Zimone allora sindaco Zimone dov'è? sulla serra in un posto bellissimo dove la vita cresce rigogliosa Zimone si trova sulla serra ma si affaccia sull'anfiteatro morenico di Ivrea quando nei tempi paleolitici è sceso il ghiacciaio il ghiacciaio è sceso giù dalla Val d'Aosta ha creato tutta la pianura di Ivrea ha creato il lago di Viverone e tutti i detriti che ha lasciato li ha accumulati su una fiancata una di queste fiancate anzi per la verità due sono proprio quelle dove si trova Zimone dico due perché ce n'è stata prima una poi il ghiacciaio si è ritirato poi è riavanzato e ce n'è stata un'altra per cui Zimone si trova in una conca unica direi che sappia io mi hanno detto in Europa in una conca formata da due da due colline di detriti di ghiacciai per cui la parte verso sud è quella più esposta al sole e oltretutto è esposta anche al riverbero del lago di Viverone quindi si crea un microclima che è particolarmente adatto per la coltivazione della vite e del vino non si produce solo bianco a Zimone noi conosciamo la serra per l'erbaluce a fini ma in realtà c'è un rosso significativo in realtà sì ci si producono tutte le qualità anche il nebbiolo in particolare il nebbiolo è un ottimo vino il nebbiolo che viene prodotto lì è lo stesso vitigno che viene prodotto a Gattinara che viene piantato a Gattinara la terra lo fa diventare spanna da noi lo fa diventare nebbiolo nostro però fra tutti questi vini quello che è riuscito a farsi riconoscere di più è un bianco uno dei pochi bianchi che ci sono in Piemonte che si chiama Erbaluce di Cluso è un vitigno di erbaluce proprio particolare che è messo su questa collina che non comprende solo Zimone perché parte da Roppolo passa attraverso il Viverone c'è la parte più alta che è quella di Zimone e prosegue fino quasi ad Andrate questo vitigno si trova particolarmente bene in questa zona forse anche perché la terra gli dà oltre al clima oltre all'esposizione alla luce del sole anche il terreno gli dà un particolare retrogusto che è unico e fa dell'Erbaluce un vino unico ecco nel suo genere per promuovere il vino di Zimone c'è una festa ormai insomma che molti anni che si chiama Cantavino si chiama Cantavino esatto è nata 21 anni fa e appunto per legare è facile legare il vino e il canto per cui si era partiti con l'idea di delle bevute di una sagra legata al vino con bevute e mangiate dove però c'erano dei cori nei vari punti del paese che continuavano a cantare nell'evoluzione poi i cori sono diminuiti ma sono aumentate le bande musicali altri tipi di festeggiamenti che fanno di tutto un contesto una festa unica dove e questa è rimasta da sempre il clou è proprio legato al vino che è la gara di pigiatura sembra una cosa banale per noi che almeno io da bambino mi ricordo che l'avevo vista fatta dai miei genitori anzi l'avevo fatta anch'io la pigiatura dell'uva fatta a piedi nudi oggi come oggi il cosiddetto metodo tradizionale quando c'è la gara di pigiatura e quindi ci sono delle coppie che pigiano su un palco diciamo che tornando un attimo indietro una volta che non c'erano le macchine cosa si faceva? quando si andava a raccogliere l'uva si portava a casa poi prima di metterla nelle botti uno della famiglia entrava nella bigoncia e cominciava a pestare quest'uva in maniera tale da schiacciare gli acini e far uscire il misto tra acino e sugo di uva per poi metterlo nelle botte farlo bollire fargli fare la fermentazione poi sono arrivate le macchine le classiche di raspatrici per cui uno butta dentro la macchina fa tutto e insomma ci siamo giustamente modernizzati però questo è bello quello di cioè io mi ricordo da bambino era bellissimo saltare dentro la bigoncettino di uva e mettersi a pestare l'uva ecco che è stata rivalutata questo tipo di di pigiatura ed è stata inventata proprio una gara dove ci sono delle coppie spesso bambini spesso padri e figli o madri e figli che partecipano a questa gara e fanno una gara a chi pigia di più nel senso che a parità di peso c'è tutta una tecnica nel fatto che di pigiare l'uva in una certa maniera per cui uno può fare più mostro rispetto all'altro e questa diciamo è la parte più esaltante della festa perché ripeto noi ci siamo abituati almeno quella della mia generazione ci siamo abituati ma in giro nessuno si può immaginare che il vino si fa pestando l'uva con i piedi nudi ecco mentre parlavi sindaco abbiamo visto le immagini proprio dello scorso anno della gara di pigiatura caduta compresa perché all'ultima edizione c'è stata questa chicca della caduta adesso invece con Antonino Rosa affrontiamo un discorso adesso non si pigia più l'uva in quel modo Antonino è stato anni direttore della cantina sociale della sera insomma è diverso adesso chiaramente il mondo propone diciamo delle novità e anche in enologia ci sono stati dei cambiamenti chiaramente fa parte della cultura enoica adesso ci sono le pigia di raspatrici che fanno tutto però come diceva giustamente il sindaco la parte più interessante folcloristica che va a riprendere quelle che erano le nostre origini contadine vitivinicole partono proprio da lì quindi evidentemente è giusto che la festa riproponga questo aspetto questo quadretto che oramai è passato ma che sicuramente ci fa meditare la tecnologia è noi che è andata avanti ci sono delle tecniche di vinificazione che sono cambiate in maniera direi a 360 gradi però partiamo sempre da quella diciamo azione lì la pigiatura con i piedi che era tipica di una realtà non solo canavesana o biellese ma che nel piemonte era il pezzo forte adesso le cose sono cambiate il famoso boccale d'oro Antonino è quello degli hobbisti diciamo adesso invece io ho così sentito parlare di ambizioni più allargate mi spiego questo concorso nell'intenzione degli organizzatori dovrebbe coinvolgere due realtà una la realtà canavesana e l'altra la realtà del basso biellese quindi non è più la solita sagra diciamo di paese è un qualcosa che diciamo si sta allargando o comunque nell'intenzione degli organizzatori quella di far partecipare il maggior numero di produttori che si trovano a cavallo di questa come diceva bene collina della serra questa morena che gode anche come si suol dire di tutti i benefici del microclima e dell'esposizione dell'altimetria e quindi è una proposta ambiziosa io spero che sia ben accolta anche dai produttori che ci sia interesse a partecipare in un momento storico dove abbiamo spento le luci per esempio all'enoteca regionale della serra dove c'erano gli infernotti e dove in questi infernotti c'erano i nostri vini il bianco per eccellenza che è un dio cigi ma c'erano anche tutta la gamma dei rossi il rosso il nebbiolo il barbera il rosato quindi c'era tutta una gamma di vini sotto i riflettori spegnendo quelle luci lì io penso che l'iniziativa della proloquo accettata e sostenuta dal comune di Zimone dia di nuovo spinta luce e anche morale ai produttori perché poi alla fine bisogna farlo conoscere questo vino non basta dire che è buono bisogna farlo bere e quindi è una scommessa che facciamo insieme e quindi parte questo concorso del più lat più lot che sarebbe questo aggeggio qua che cos'era nella botte era inserito nella botte era un vecchio strumento che era diciamo in simbiosi con la botte e serviva per spillare per spillare il vino in realtà adesso le tecniche sono tutte altre abbiamo le pompe che aspirano abbiamo tutte altre tecniche però ripartiamo da quel discorso iniziale delle nostre tradizioni e giustamente l'abbiamo voluto mettere sul tavolo per far capire ai nostri giovani che cosa sono queste diciamo alchimie della viticoltura quindi il 9 settembre premiazione del Boccale e del Piulat quindi i produttori migliori di Zimone di tutta la serra il giorno dopo Cantavino nelle strade di Zimone naturalmente con il sindaco che guiderà il corteo dei sindaci perché l'anno scorso ha detto che i sindaci sono l'ultimo baluardo contro la politica è un paradosso questo non proprio contro la politica diciamo che ce l'abbiamo contro un po' tutti cioè ormai ci siamo solo più noi che a contatto col cittadino perché la politica è un po' distante dal cittadino per cui noi siamo l'ultimo baluardo che può difendere o non difendere i cittadini io sono infatti sono molto contento che partecipino i miei colleghi sindaci di realtà più o meno grandi come la nostra anziché far venire il nome eclatante che è il politico che c'è a Roma che spesso e volentieri viene solo per prendere l'applauso e poi non lascia niente mentre invece con i miei colleghi sindaci si condividono tante cose tante politiche tante battaglie e anche tante feste fatte insieme ecco siamo d'accordo anche noi della redazione di 015 infatti noi siamo partiti con questa trasmissione ragionando che si parlerà sempre di fatti e personaggi ed eccellenze biellesi e quindi molto probabilmente i politici non possiamo annoverarli tra le eccellenze basta finiamola qua se no poi ci tagliano la trasmissione alla terza puntata grazie a tutti gli ospiti di questa sera ricordo ancora il sito 015tv.it la mail redazione chiocciola 015tv.it alla prossima puntata grazie a tutti